Boni, ancora tu? Sempre io Ma quanto tempo? Ho tornato Boni L'altro è che tu sai, io sono sempre alla ricerca dei giocatori forti Sì, lo so, lo so, lo so, lo so Mi ha scritto questa persona su Instagram un certo Oblickers Che diceva di avere le hacke da fare cose incredibili Mi ricordo qualcuno Oblickers L'ho già sentito, l'ho già sentito Mi è familiare questa roba, però non... Quindi questo avrebbe le hacke? Dice di avere le hacke potentissime che ti farà impazzire Ma io non vedo un hacker tipo dalla season 7, non vedo La sdrubale La sdrubale è sparito, e perché vuole venire questo? Per impressionarti, così vuole diventare famoso, mi ha detto Vuole diventare famoso per le hacke? Allora, aspetta, iniziamo a vedere se ha le hacke, iniziamo a vedere se ha le hacke Dai, invitalo, invitalo Vuole diventare famoso con le hacke, va? Allora, signor, già che c'è RCN, qua non mi piace Qua mi dicono che lei ha messo le hacke perché vuole diventare famoso, vero? Sì, io sono già famoso Tu sei già famoso? Ma cosa stai dicendo? Ma chi sei? Facciamo una cosa, facciamo una cosa Ti lancio una sfida Andiamo in squad Voglio fare 10 kill Vediamo se effettivamente le hai E se dovessi averle, io ti farò diventare famoso Vai Mi viene da ridere Bonnie, te lo sto dicendo Questo vuole diventare famoso con le hacke Ma io comunque mi ricordo di un certo Bleeckers, non lo so Ma Bonnie, tu mi hai sempre portato gente così, quindi potrei fidarmi In genere io scelgo persone abbastanza affidabili Quindi ho parlato un po' con un Bleeckers e sembra... Sembra che li abbia davvero Vediamo, vediamo, io non sento più hacker, anche perché dopo la cosa di Fitz Jarvis non sento più hacker da una vita No, infatti sono spariti tutti Sono spariti tutti gli hacker Dai, vediamo, adesso vediamo, sono curioso Ma c'è un compagno, ma chi è questo? Ahmad Buonasera, Ahmad È il mio amico Ahmed Sì, Ahmed Ma gli hacker non hanno amici, scusa Ah, quindi tu sei un hacker con gli amici? Bah, vabbè Allora, Bonnie, io te ti facciamo uccidere Sennò se tu, se no, se vuoi aiutarlo puoi anche aiutarlo Come vuoi te? No, no, no Allora, 10 kill e diventerai famoso, vai, eh 10 kill No, vabbè No, vabbè Vai, iniziamo Ha solo una pistoletta, sono proprio curioso RCN Oblickers Vai, Bonnie Siamo pronti, eh Oh, c'è anche un R Vediamo, vediamo Allora Momento della verità Oddio Oddio Mi sa che ce li ha Quanto stanno fanno? Ok, mi sa che ce li ha le hack Vorrei fare 10 kill La sfida è questa Ma dove spara? Ma dove sta sparando? No, mi sto un po' allenando un attimo Ma come ti sta allenando? No, Bonnie Bonnie, te lo dico Bonnie, ma È il minimo di riscattamento Scusa, ma No, io non l'ho mai visto Allora Io mi dissocio da tutto ciò Non voglio sapere dove ho trovato queste cose Non lo voglio sapere Questa cosa non ha senso Non ha Io mi dissocio Io mi dissocio da tutto ciò Questa cosa non ha senso E questa cosa non esiste Bonnie Io non ho visto niente Cioè, io sono Boh Ha già 8 kill Ma non ha senso Non ha Ma non ha senso Alziamo a 20 Alziamo a 20 Alziamo a 20 Mi spara Ma che è? Mi sto sparando No, 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 no Io non ho mai visto niente del genere Questa cosa non ha senso Non ha Beh, dai La mira è buona Complimenti, bro 13 kill Allora Io direi che alzerei Alzerei a 20 Io sono a 30 Eh, no, eh, no Siamo a 30 Eh, senti Già che si l'avete Lui vuole diventare famoso Giustamente Deve pure farne 30 Dici che vuole 30 Ah, ma 30 Come fa a fare 30 kill Guarda quello che curava Questa mitraglietta è fortissima L'hanno rimaste veramente troppo forti Mi ricordo che i tempi Io l'asavo sempre Te la ricordi Allora, ragazzi Siamo a 15 kill E la partita è iniziata Tipo da 20 secondi Le 25 le fa Le 25 le fa A 20 sono uno degli RCN Guarda questo E 60 Easy In testa Morto Siamo a 16 kill C'è un altro sotto Questo lo devasta Libo, 13 spettatori Eh, lo stai guardando tutti E ci credo Ma Ha sparato avanti E l'ha ucciso dietro Ok Va bene Eh, sì È il vento Hanno messo il vento Ah, perché hanno messo il vento su Fortnite Ok, giusto Giustamente, ragazzi State tranquilli Questo è solo il vento Bonnie, ma è possibile che ogni volta che Mi porti qualcuno C'è sempre qualcosa di strano che succede? Ormai trovo le persone più strane E più forti del pianeta Ok, 57 in testa Morto Siamo a 18 kill Ah, io pensavo Buddy che li volesse uccidere tutti dalla barca invece Morto uno Secondo morto Sì, sì Oh mio Dio Terzo morto Oh mio Dio Quarto morto Mi dissocio Mi dissocio da tutto questo Per me può farne 20 kill E ora sono famoso Per me può farne 30 Per me può fare pure 30 E mancano 80 o 90 E sono il 24 Dovremo dargli la fama Dovremo dargli la fama A questo ragazzo Penso se Bappo dovesse sfidarlo Buddy Eccolo qui Vabbè, ma questo era botto Questo vabbè, dai Guarda che sta sparando ora Siamo a 22 kill 22 kill Easy Vabbè, ma che ci vuole fare 22 kill, dai Io penso che abbia ricevuto più segnalazioni lui Che tutta Fortnite In questi due anni di gioco Poi cosa pensa la gente che vede RCN Dai, pensano Ma gli RCN sono degli hacker Ma dai Mi spiace Io continuo a dirlo Sto video Io non c'entro niente 20, 20, 20, 20 Neanche lo vedo Neanche lo vedo Io vedo solo numeri Sembra Sembra superenalotto Infatti tra poco è Natale Io non lo vedo Superenalotto Ci giochiamo assi numeri, Bonnie Sei vicino senza te Non sto comendo niente, bro Non so se hai capito Dovresti vedere la mia faccia, Bonnie Tu vorresti entrare? Tu vorresti entrare nel mio team? Se batti baffo Sei dentro il team? No, bro Non posso farlo Non posso farlo Non posso perderti nel team Non avrebbe senso Cioè poi Tutti i biscritti Cioè Cosa direbbero i biscritti? No, no Guarda quello Guarda quello là in alto Guarda quello là 161 metri E' distrutti tutti No, vabbè Guarda che roba Io sento Io sento solo headshot Ma non ricarica mai? Ho sentito più monetina adesso che Mi sa che le 30 kill le fa Io no, no Io voglio dissociarmi da tutto ciò Io non centro niente Questa cosa è sbagliata da fare Non voglio centrare nulla Sa pure costruire Attenzione Oblicherse non sapeva costruire i tempi Ok 40, 40, 40 Quello ha poca vita Quell'altro sul fortino Poverino Non c'è capito niente Loro sentono solo colpi Non vedono nulla Non vedono Ho 28 kill Penso che le 30 ormai ci arriviamo Ok Sipro 33 Un altro morto Siamo 29 30 Ma perché non c'è delle kill? Mi sa che qua facciamo un record di kill Mi sa che qua facciamo un record di kill 29 Però questo poverino 32 32 32 kill Vabbè Ok 32 kill Ancora Io non c'entro niente Fortnite Io non ne voglio sapere niente Oblicherse Cosqui è pazzo Io torno in lobby Bonnie Sono un po' spaventato Ho un po' di tachicardia Sai che stavolta ho esaggiato con le cose strane Allora Sfira superata Niente Vuole diventare famoso quindi Bonnie Lascerevo il suo link Lo lasciamo in descrizione Sì dai ce l'hai meritato Se lo merita vero Va bene Oblickers Va bene Oblickers È stata una bella sfida Io ripeto per l'ennesima volta Mi dissocio Liente lui Vuole diventare famoso quindi Io Ormai l'ho promesso Non pensavo Alla fosse davvero Non pensavo esistessero più Queste cose brutte su Fortnite E Bonnie Ringraziamo per averci portato Questa persona un po' misteriosa Non ne ho stupito anch'io Eh ragazzi 32 35 35 alla fine No alla fine 35 È vero 35 kill alla fine ha fatto 35 È stato facilissimo Un terzo della lobby Un terzo della lobby Cioè bro Tu hai fatto 35 kill Hai qualcosa da dire? Che dire easy Ah easy Ok niente Il video finisce qui Ragazzoni Ci vediamo al prossimo video Io spero che non succeda il pinete del genere Un bacione 15.000 like Mi raccomando 15.000 like perché È d'obbligo Cioè non è che c'è tanto da dire È d'obbligo Bella ragazzi Bravo Mi ha noto bene Ma non è come te Pes Che build e basta Guarda Lui spara Lui fa le kill Bravo eh Molto bravo Eh vabbè Qua ha avuto una buona mira Ma che buona mira è hack questa raga Ma che hack Scusa ma uno non può avere una buona mira Che sei subito hack Vabbè ma cosa c'è Ma scusa Pes Ma lascialo giocare Che muore Che muore Dei dentro dentro lì Guarda manco modificare Così scarto Ma lo puoi far giocare Pes Stai zitto Vado via Pes Guarda com'è invidioso della sua mira Guarda cosa fa I materiali Wow bravo Scusa ma già 4 kill Non gli fai i complimenti Ma quanto che hai giocato dai Vabbè è vero Questo magari non è la forza Vabbè scusa Pes Cioè non è un torneo eh Dopo lo sfidi Oh Mira sai che ho fatto la sua È veramente ridicola Lo sai questo Ehi guarda sei vicina Guardalo eh guardalo Ma l'ho ucciso lui Ma l'ho ucciso Ma chi è che l'ho ucciso Ah il Batrang Non l'ho capito Chi è che ha ucciso questo Cioè il Batrang È crashato Pes È crashato Si è spaventato Lui è un hacker Cioè lo sapevo già Io e Bonnie Gli si è messi d'accordo Perché ora Pes Non lo sa Ma lui dovrà sfidarlo E secondo me Vabbè Bonnie un po' l'ha capito Che questo è un hacker Quello cosa sta facendo Cioè se kill solo headshot di R Non ha neanche preso il pompa Deve resta vira Eh rip Sì vabbè set headshot Vabbè questo era fermo Quindi magari Deve sembrare alcun hacker qua Bonnie ma dove li trovi tutti sti hacker Cioè tu sei il Fornitore di hacker Cioè Guarda guarda quello Guarda quello Questo non sa cosa si le aspetta Ecco infatti Era meglio che non ci provasse Ok Siamo 9 kill Lei farà se vedi bombe Occhio bro Spara 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 È morto qui Ecco Va bene Ok Da qualsiasi situazione Può uscire lui Perché tanto sa che fa 7 headshot di fila Quindi Hai bro Le altre 20 kill Va bene Oddio Quello lì c'ha tipo uno di vita No Ma come si permettono A sparare il mio hacker Che era